Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata. Qui con me a parlarvi c'è Michele Manzo, Sales Manager di Anartis Italia. Ciao Michele. Ciao Francesco, ben ritrovato. Grazie, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie mille. Ottimo. Allora, oggi parleremo di una tematica diversa rispetto a quella dell'altra volta, parleremo di stabilità microbiologica, in particolare parleremo del chitosano. Chitosano che per l'OIV in tante neonologia può essere utilizzato soltanto quello derivante da Spergillus niger e l'OIV ha predefinito tre ruoli principali. Quello di ridurre i metalli e l'ocratossina A come primo obiettivo, quello di essere utilizzato nella chiarifica e quello per cui siamo qui oggi, quello per essere utilizzato nella gestione microbiologica. Gestione microbiologica che negli ultimi anni, anche grazie, grazie, purtroppo per il cambiamento climatico e all'innanziamento continuo delle temperature, dei gradi zuccherini dei mosti e soprattutto del pH, diventa una sfida sempre più difficile da gestire per l'enologo. Quindi voi praticamente che strumenti date all'enologo per riuscire a gestire queste nuove sfide? Guarda Francesco, la prima cosa che ti posso dire è che Enartis ha iniziato questo approccio al cambiamento climatico oramai 15 anni fa, quando nacque per la prima versione del chitosano. Perché nasce questa esigenza? In primis non tanto per un cambiamento climatico, ma nasceva come un prodotto alternativo all'utilizzo dell'isozima, che era diventato negli anni un allergene, perché derivava dall'uovo. Quindi l'idea del chitosano nasceva per questa motivazione. Poi successivamente hanno capito sempre di più l'attività che il chitosano aveva sui contaminanti microbiologici. In primis il brett, quindi il lievito brettanomices, e successivamente anche sui batteri malolattici e acetici. Enartis oggi sul mercato si pone con una soluzione alternativa, che è quella del chitosano attivato. Cosa intendi per chitosano attivato? Attivato intendo... ti faccio un esempio. Ti faccio un esempio. Immaginati il chitosano come una molecola molto complessa che assomiglia ad un gomitolo. Questo gomitolo all'interno contiene una carica. Quella carica è sostanzialmente la parte attiva che va ad agire sui microrganismi. Finché questa parte attiva resta all'interno, non funziona. Ma quando viene posto al pH acido del vino questo gomitolo inizia a srotolarsi ed espone la carica. Enartis fornisce oggi alle cantine quello che è un chitosano attivato, di conseguenza con una carica già esposta. Immaginati tu in un processo fermentativo così breve quanto i microrganismi si sviluppano rapidamente. E ad avere un chitosano attivo da subito è fondamentale. Sia per agire sui batteri malolattici sia per agire sul brettanomices. E ascolta, come sta rispondendo il mercato? Il mercato avrà sempre più bisogno di uno strumento come il chitosano anche perché andiamo incontro a due aspetti. Come abbiamo detto prima, il cambiamento climatico, quindi l'esigenza di mantenere dei vini molto più freschi evitando che avvenga il fenomeno della malolattica. L'altro aspetto è sicuramente quello di avere dei vini rossi molto puliti da un punto di vista organolettico e di conseguenza il chitosano gestisce lo sviluppo del brettanomices. Ma un altro aspetto che tutti i consumatori richiedono è quello dell'abbassamento dei contenuti della solforosa e di conseguenza il chitosano ha proprio questa attività. Ridurre e diventare un'alternativa, non dico totalmente, ma sicuramente utile a ridurre il quantitativo di solforosa all'interno dei vini. Chiaro, solforosa che non solo non è percepita sempre bene dalla parte dei consumatori ma che purtroppo appunto, come dicevamo prima, per colpa del rinanzamento del pH è sempre meno efficace purtroppo. Ascolta Michele, quali sono le nuove strategie adottate da Inartis? Guarda Francesco, ti voglio aggiornare sull'ultima cosa che Inartis ha sviluppato in termini di controllo microbiologico che è il prodotto che si chiama Inartis Stab Micro Zero, che è l'unione di tre componenti, una miscela di tannini, l'acido fumarico e il chitosano attivato. Questo prodotto ha una caratteristica che è quella di poter interrompere l'attività dei batteri malolattici, cosa che il chitosano attivato solamente non riesce a fare, la previene ma non può bloccarla. Quindi oggi abbiamo una strada alternativa a quei classici trattamenti di aggiunta di solforosa in massicce e filtrazione dei vini e abbattimento delle temperature e poterlo fare in un'unica soluzione. Mi sembra veramente fantastico, quindi auguro a te e a tutto il team di Inartis Italia un grande in bocca al lupo. Grazie mille, vive il lupo. Ciao.